E' ripreso a nevicare a Chieti e proprio in questi minuti qual è, Sindaco, la situazione anche dopo la nevicata della notte scorsa? La situazione è sotto controllo, il nostro territorio, tutto il territorio comunale è sotto controllo perché il piano neve ha funzionato da subito, già dai giorni scorsi con i mezzi spargisale e poi con gli spazzaneve, quindi tutta la viabilità principale garantita, ma anche la viabilità nelle zone più periferiche. E' ovvio che la nevicata non è stata così importante come era stato preannunciato, quindi questo ci ha avvantaggiato. Il rischio adesso è il ghiaccio ed è per questo che continueremo a avere grande attenzione per la viabilità, proprio per evitare che ci siano le insiglie del ghiaccio perché le temperature continuano ad essere basse. Domani il tempo dovrebbe migliorare e questo dovrebbe portare via anche i rischi che con il freddo sono connessi. La macchina operativa del Comune ha funzionato? Sì, devo dire che ha funzionato molto bene, si vede perché la città è totalmente percorribile, e resta la raccomandazione per chi si mette in auto di avere una macchina attrezzata con le dotazioni invernali perché senza di quelle non c'è spazzaneve, non c'è spargisale che regga.